pace e bene nel nostro cammino di pasqua gesù risorto oggi sali al cielo ma la bella news è che lui continua presenti vivi operanti in mezzo a noi infatti nel vangelo di oggi leggiamo che il signore risorto operava insieme coloro e confermava la parola con i prodigi che li accompagnavano che il signore risorto possa fare sentire la sua presenza in ogni situazione e occasione della tua vita pace e bene